Dopo aver preso parte alla presentazione del piano industriale 2021-2025 di Brioni presso la sede del Mise a Roma, l'assessore regionale con delega al lavoro Pietro Quaresimale ha incontrato a Penne alcuni componenti della giunta Semproni. Tema principale, scongiurare in tutti i modi l'esubero di 320 lavoratori annunciati dalla stessa azienda guidata dal gruppo Kering. Ricordiamo che i tagli riguarderanno solamente i tre stabilimenti dell'area vestina, cioè quelli di Penne, Civitella Casanova e Montebello di Bertona. Durante il confronto l'assessore Quaresimale ha ribadito gli stessi concetti espressi dopo i tavoli ministeriali, ovvero la forte volontà della regione Abruzzo di evitare che questa importante realtà del Made in Italy lasci l'area vestina già duramente colpita dalla crisi e dallo spopolamento. Abbiamo affrontato la vicenda di Brioni che per l'amministrazione comunale rappresenta una priorità, ha dichiarato l'assessore. Come regione stiamo lavorando in sinergia col Ministero dello Sviluppo Economico per scongiurare i tagli di posti di lavoro. Siamo fiduciosi. A breve incontreremo anche l'amministratore delegato di Brioni con il quale concerteremo iniziative per chiudere la vertenza. Oltre alla vicenda Brioni sono stati trattati argomenti come politiche sociali e formazione, oltre al tema della valorizzazione dell'artigianato artistico della città. Il sindaco Mario Semproni ha proposto di attivare attraverso la programmazione europea corsi professionali per formare giovani artigiani da impiegare nei settori della razzeria e nella realizzazione di pavimenti con la tecnica del coccio pesto. Tornando alla vicenda a Brioni, domani in occasione del primo maggio CGL Cisle e Will Abruzzo hanno scelto proprio Penne come luogo simbolico per celebrare la festa del lavoro. I segretari Carmine Ranieri, Leo Malandra e Michele Lombardo saranno davanti allo stabilimento Brioni in via Fonticoli per un presidio per il lavoro e contro le crisi industriali. La scelta della Brioni di Penne, dicono i tre segretari, non è casuale. In ordine temporale è l'ultima grande crisi di una lunga serie che si sono aperte sul nostro territorio e il numero di esuberi annunciato, ben 320, è davvero pesante. Saremo al fianco dei lavoratori per ribadire che l'Abruzzo si cura con il lavoro, allineando così questa giornata a quella nazionale, che avrà per slogan l'Italia si cura con il lavoro.